Giorgio Mametti Le anticipazioni su Uomini e Donne del Trono Over rivelano che Anna Tedesco ha deciso di dire addio definitivamente alla sua presenza nello storico programma condotto da Maria De Filippi Over dopo le ultime e continue accuse ricevute in studio nell'ultima registrazione avvenuta. Ma andiamo a scoprire i dettagli leggendo qui in fondo, spoiler Uomini e Donne Over, Anna Tedesco fa una scelta la bella dama dagli occhi azzurri è stata ancora una volta nel bel mezzo del subuglio per il probabile firco Giorgio Manetti, il Cavaliere Toscano, che non ha ancora trovato l'amore vero, nonostante presensi già da diversi anni nella trasmissione della De Filippi. Come svelano dagli ultimi spoiler del Trono Over, diverse persone hanno iniziato a sospettare della sua sincerità nei confronti di Manetti, e le attuali voci di una probabile frequentazione, a loro avviso solo d'amicizia, al di fuori dell'occasione televisiva hanno aiutato ad aggravare la situazione. Anna Tedesco abbandona web over, Giorgio la segue? Come si evince dalle anticipazioni della trasmissione Uomini e Donne, Anna Tedesco ha scelto di lasciare completamente il partner di Uomini e Donne, dopo essere stata incolpata ancora di avere una relazione amorosa con Giorgio, segretamente vissuta fuori dalle telecamere. Dalle ultime informazioni, siamo a conoscenza, che diversi partecipanti del talk show sono sicuri, che la damma dagli occhi azzurri sia innamorata folle del gabbiano del partner maschile. Diverse voci segnalate avrebbero indotto Gianni Sperti e Tina Cipollari a farsi dare il telefono di Anna Tedesco per verificare la sincerità della donna, infatti, Anna ha scelto, definitivamente, di lasciare il programma con un video postato sul suo profilo personale Facebook. La donna ha dichiarato di aver scelto di lasciare lo studio di Mediaset in completa autonomia, raccontando di essersi sentita offesa come donna e mamma. Per concludere è specificato che sia più importante salvaguardare la sua vita privata, invece che essere accusata di falsità, ma se la Tedesco e Manetti hanno una relazione, significa che anche Giorgio Presto dovrebbe lasciare definitivamente la trasmissione per seguire Anna? Al momento non abbiamo informazioni precise al riguardo, ma lo scopriremo nelle prossime anticipazioni, al momento per rimanere sempre aggiornati sulla vicenda potete cliccare il tasto seguiposto in alto, sotto il nome dell'autrice, Uomini e Donne Anticipazioni. Grazie a tutti.